no ma perché ha detto di non pulire e non tagliare e si immagino eh lì non tagli più cazzo lì dobbiamo scavalcare no ma magari ci facciamo sotto questo qua ragazzi c'è da da stacquana settimana no 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 lascia stare veniamo qua con gli astrezzi non stare lì adesso a far fatica tanto di qua non passiamo niente andiamo andiamo in su dei sentieri dai qua quando veniamo qua dobbiamo venire qua con gli astrezzi è dell'ale dell'alessandro è pientalo in tasca no Fausto torniamo indietro là torniamo indietro là andiamo dal sentiero ma c'è il sentiero allora va bene dai dai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.